Scusi, ci conosciamo? Si ricorda? Si ricorda? Come sta? Lei non è di queste parti, vero? Lei non è di queste parti, vero? Di dov'è? Sono americana. Sono americana. Le piace il nostro paese? Le piace il nostro paese? Le piace il nostro paese? L'Italia è bellissima. Le va di andare? Le va di andare? D'accordo. 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 D'accordo.